ARIETE Molto importante. Tra i due settori, quello che vi riserva in questa giornata maggiori stimoli sarà però il primo. La famiglia richiede la vostra presenza in serata. Gemelli, dovrete lottare con voi stessi per applicarvi in tutti quei settori in cui il dovere richiama all'ordine. Sarete infatti piuttosto svagati, complice anche una sempre più forte voglia d'estate e di vacanze. Cancro, siete dotati di una buona capacità di essere severi con voi stessi ed obiettivi nel giudicarvi, per cui saprete rimediare ad un errore che compirete involontariamente quest'oggi. Più prudenza nei rapporti con gli altri. Leone, nel lavoro tutto procede secondo i ritmi della prevedibilità, il che è per voi la situazione migliore, considerando che in questo momento i vostri interessi prioritari sono tutti rivolti altrove. Bisticci con il partner, nervosismo da tenere sotto controllo. Vergine, prestate attenzione ad errori di distrazione che potreste commettere e che potrebbero venire anche tra qualche giorno clamorosamente a galla. Tenete conto dei consigli di una persona più esperta di voi. Bilancia, il desiderio di spendere è qualcosa che oggi vi tenterà e vi avvincerà più del solito. Nel lavoro non andrete incontro a spiacevoli novità solo perché saprete usare una buona dose di oculatezza. In ogni cosa farete. Scorpione, con la voglia di inebrianti emozioni che sentite, sarà molto difficile portare a termine gli impegni della giornata. Comunque ce la farete. Sagittario, starete molto bene con voi stessi oggi. Godetevi questa vostra armonia e lasciate galoppare la fantasia fin dove vuol raggiungere. Vecchie ferite d'amore finalmente si rimarginano. Capricorno, avete voglia di novità? Le maggiori le vivrete in campo affettivo. Il vostro partner vi porterà infatti a sentirvi nuovamente molto corteggiati, provocando nuove malizie nel vostro rapporto. Più pazienza con una persona anziana di famiglia. Acquario, se non avete le idee chiare, approfittate di questa giornata piuttosto tranquilla per mettere chiarezza dentro di voi. Non prendete decisioni affrettate. Il tempo è vostro alleato. Riflettete un attimo in più. Pesci, la carica emotiva oggi è alta e il vostro corpo segue perfettamente gli influssi della mente. Tutti intorno a voi si accorgeranno del grande carisma che possedete. Quindi successissimi personali. Grazie. Grazie.